ben trovati su Radio News ventiquattro io sono Antonio del Furbo e questo è on air interviste e storie oggi qui con noi lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito Massimiliano Gambicorti che è un imprenditore agricolo benvenuto Massimiliano buon pomeriggio a tutti grazie per l'invito allora Massimiliano io avrei prima di partire pensato un po' un hashtag che vorrei lanciare per un po' sottolineare la nostra chiacchierata che stiamo per fare che è quella hashtag agricoltura se tu sei d'accordo dimmi pure sì sì mi associo grazie il primo step è fatto va bene allora Massimiliano tu hai un'impresa agricola quindi sia di agricoltura un po' e anche allevamento eh ce la presenti un po'? Allora praticamente l'azienda agricola Gambicorti è un'azienda a conduzione familiare è presente nel territorio diciamo dagli anni sessanta però eh è fondata da un' esperienza che è molto più che ha radici molto più profonde perché i miei antenati sia da parte di babbo che di mamma facevano già questo 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 mestiere eh lavoravano già nel mondo agricolo e quindi si occupavano di allevamento e di agricoltura e niente la nostra filosofia aziendale è basata sul rispetto del territorio e degli animali eh attualmente ci occupiamo di di questa azienda in quattro persone che sono mia mamma eh mio babbo e mia sorella e a trecentosessanta gradi eh ci occupiamo della produzione cerealicola che principalmente serve per eh il nostro allevamento che 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 sono bovine e suini e e di foraggere quindi fieno per gli animali eh tutta la produzione zootecnica come detto prima l'olivicoltura e la viticoltura e e niente io come imprenditore diciamo nasco recentemente però eh ho codiuvato l'azienda l'attività di mio padre dal 2009 eh quando avevo circa 16 anni sono entrato in questo mondo ehm occupandomi all'inizio eh del del ramo burocratico eh poi mano a mano con il passare degli anni ho cominciato a seguire altri aspetti eh diciamo dell'azienda e quindi delle nostre produzioni aziendali eh la parte della vendita poi addirittura nel 2016 abbiamo fatto anche un'implementazione l'azienda si è allargata abbiamo acquistato un'altra azienda contigua la nostra e e niente insomma eh Bassimigliano com'è com'è intanto eh portare eh come dire un po' sulle spalle un'azienda un'attività comunque di famiglia no ci sono pro e contro? Sì mh devo dire che eh a me è piaciuto da subito dal momento in cui ho finito un attimo gli studi perché ero sempre giovane mh mi sono trovato questa attività e devo dire che mi è piaciuto da subito eh poi abbiamo una giornata tipo che è un po' particolare nel senso l'attività agricola eh la mattina eh ci alziamo molto presto andiamo in stalla ci occupiamo degli animali eh facciamo tutte le razioni per loro un po' bella impegnativa diciamo è carica poi oltretutto agli animali ci sono anche tutte le produzioni da seguire nel frattempo per eh tutta l'attività agricola quindi c'è l'olivo la vita insomma certo massimiliano perché comunque questa è una delle pochissime forse attività se non l'unica adesso in questo momento non mi viene non mi vengono altre attività che comunque eh diciamo vanno al ritmo della della vita di chi lo fa no nel senso tu ti alzi immagino all'alba per fare delle cose poi magari alle sette per dire per fare uno cioè segue proprio il percorso naturale della della vita immagino che comunque eh poi la la sera sarai abbastanza eh stanco e comunque insomma eh dopo la giornata impegnativa eh no e ti volevo dire che è molto impegnativa perché avendo molti molti essendo molte attività quindi eh seguendo proprio la la tutte le filiere agricole no eh poi oltretutto seguiamo anche la stagione perché eh molto dipende anche dalla stagionalità di quel di ciò che facciamo in questo momento dell'anno faremo delle cose in estate altre e quindi bella impegnativa sì eh appunto in questo diciamo in questi giorni eh in che cosa siete impegnati magari ma in questi giorni siamo impegnati soprattutto nella semina dei cereali quindi dell'orzo che principalmente viene usato in azienda perché abbiamo un molino aziendale in cui maciniamo i prodotti per i nostri animali c'è tutta la parte della potatura e della vite eh possiamo già cominciare a fare la potatura dell'olivo tutta la lavorazione delle carni eh che abbiamo tutti i suini in allevamento eh ci sono molte cose anche se eh è diciamo un mese che non ci da tregua questa pioggia però eh da fare c'è certo eh ma se invece per quest'anno ehm sempre rimanendo in tema ovviamente lavorativo eh ci sono degli obiettivi da raggiungere degli orizzonti nuovi? Allora sì noi lavoriamo praticamente eh con la grande distribuzione lavoriamo con con i negozi come le macellerie e al pubblico soprattutto con la parte di allevamento dei suini da quest'anno ma eh quello che voglio fare anche nel 2021 quindi implementandolo è la vendita al pubblico eh con i pacchi famiglia i pacchi famiglia della carne che secondo noi è un'iniziativa che è ambiziosa e importante perché la gente deve conoscere appunto tutti i vari tipi di tagli di carne che 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 facciamo eh in maniera che appunto si riesca avvicinare anche il produttore eh il consumatore al produttore ecco mi piace appunto che i nostri clienti vengano in azienda in maniera che da avere un contatto ancora più diretto con il nostro mondo con l'attività e con gli animali perché molti questo contatto magari l'hanno un po' perso ecco diciamo certo ed è importante perché in un momento in anni come questi no un po' così che magari si si acquista solo il prodotto senza conoscerne appunto da dove viene secondo me è azzeccatissima questa tua idea appunto di conoscere da dove viene chi la produce insomma instaurare questo rapporto col cliente eh è fondamentale allora Massimiliano eh io ti ringrazio ci arriviamo verso la conclusione eh per chi vuole contattarti stiamo dando già in sovraimpressione eh i riferimenti sia sul social sul Facebook che azienda agricola Gambicorti che su Instagram Massimiliano Gambicorti io ti ringrazio per essere stato con noi e ti auguro un buon lavoro grazie buon lavoro anche a te grazie a te Radio News 24 on air tornano tra poco con nuove interviste